Musica Ucciso a colpi di pistola nel dicembre scorso sono state rinvenute nelle ultime ore tracce di sangue presso la propria abitazione. Parliamo di Pietro Longobucco, presunto killer dell'area urbana di Corigliano e di questo parliamo con il direttore della testata giornalistica Fabio Bonofiglio che ringraziamo ovviamente per essere con noi, per un po' dialogare, discutere e confrontarsi su temi che attengono la criminalità organizzata. Allora, in queste ultime ore, come dicevamo, l'antimafia si reca presso l'abitazione del centro storico di Corigliano, scruta ogni angolo dell'abitazione di Pietro Longobucco e rinviene tracce di sangue. Che cosa sta accadendo? In realtà le tracce di sangue certamente non sono postume all'omicidio ma sono contestuali all'omicidio evidentemente. Le tracce c'erano, erano state anche repertate, scoperte in precedenza da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Corigliano che ha ritenuto opportuno non intervenire, però non inquinare evidentemente la scena del presunto crimine che in quella casa si sospetta si sia consumato e fanno intervenire i reparti scientifici dei carabinieri, Rissa di Messina aiutati dai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Cosenza. Si tratta di analisi irripetibili, quindi sono stati prelevati dei campioni e credo siano tuttora in corso le analisi e le comparazioni delle tracce ematiche e delle tracce di DNA differenti che sono stati repertati in quella casa. Probabilmente così ci dicevano gli inquirenti l'altro giorno, probabilmente i risultati di queste analisi e di queste comparazioni arriveranno da qui a breve e questo omicidio potrebbe riservare delle soluzioni, una risoluzione probabilmente con un qualche colpo di scena rispetto a quelli che sono gli scenari solitamente. Le ipotesi più accreditate come sono? Ma a mio modo di vedere è un omicidio di Indrangheta, senza ombra di dubbio. Considerate la caratura del personaggio, Pietro Longobucco era il supposto capo dell'Andrina di Corigliano, era un boss importante, condannato più volte in continuità per l'associazione mafiosa ed altro, per cui la caratura del personaggio lascia supporre in modo quasi inequivoco che si sia trattato di un omicidio di Indrangheta. Perché sei convinto di questo? Proprio per le ragioni che spiegavo prima. Si tratta di un personaggio di spicco della criminalità organizzata, il cui nome è stato nelle cronache per tanti anni, era uno degli uomini liberi, dei pochi uomini liberi sul Corigliano, con un certo grado all'interno dell'Indrangheta. Io credo che non possa che trattarsi di un omicidio di Indrangheta. Riflettevo un po' per metodo, anche per criterio, quando l'Andrina colpisce o colpisce direttamente come è successo a Villapiana, con Leonardo Portoraro in pieno giorno in un bar, colpi Karajnikov e così via, oppure la famosa Lopara Bianca. In questo caso invece si tende ad occultare il cadavere, però è stato male occultato, poi una pistola che viene rinvenuta in un frugono. Cioè ci sono degli elementi di riflessione che ci lasciano, almeno presupporre una sorta di approssimazione. Sicuramente gli elementi potrebbero lasciarsi opporre anche ad un omicidio, non di Indrangheta. Ci sono questi elementi che hai elencato, però potrebbe essere stato deciso di compiere un delitto di Indrangheta in un modo silenzioso, in un modo silenziosamente singolare. Questa volta, anche perché sul conto di Longobucco era uscito già un progetto di eliminazione appena qualche mese prima della consumazione dell'omicidio. e quindi il personaggio, benché molto attento alla propria incolumità, ha maggior ragione, essendo a conoscenza di notizie circa una sua prospettata eliminazione, penso sia stato doppiamente attento, per cui le modalità dell'omicidio dovevano in un qualche modo cambiare. Non più di qualche tempo fa hai avuto modo di scrivere sulla testata giornalistica che in realtà l'azione esecutiva sarebbe avvenuta mediante dei soggetti che si sarebbero introdotti nella propria abitazione, travestiti in divisa, non giusto per cogliere magari, per accedere facilmente nell'abitazione di Longobucco, e per poi procedere a... Sembra che questa... Sì, è ovvio che è un'indiscrezione da fonti giornalistiche piuttosto accreditate che viene avallata dagli ultimi sviluppi sulle indagini che condurrebbero la consumazione dell'omicidio proprio in casa del pregiudicato Longobucco. Quindi sarebbero entrati con fare ingannevole, no? Sì, sarebbero entrati con fare ingannevole, molto probabilmente travestiti da carabinieri, probabilmente si sono presentati addirittura palesandosi come carabinieri dell'antimafia da Catanzaro, perché chiaramente Longobucco non poteva non conoscere uno ad uno i carabinieri locali, li conosceva certamente uno ad uno, le perquisizioni a casa sua, le visite a casa sua da parte dei carabinieri erano piuttosto frequenti, e comunque lui era personaggio noto, era personaggio che aveva avuto per lunghi anni anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dopo le lunghe detenzioni. Ora resta da stabilire a chi possono essere attribuite queste tracce di sangue. Gli inquirenti ci hanno rassicurati che i risultati delle analisi e delle comparazioni giungeranno molto presto. Io ho la sensazione che noi della cronaca ne conosciamo pochi contorni di questa vicenda, e che gli inquirenti abbiano in mano un contorno piuttosto consistente. Ho avuto questa impressione l'altro giorno, sinceramente. Stavo per chiederti se hai le notizie di San Filippo, da un punto di vista investigativo. Beh, personalmente no, non mi ha telefonato. Che cosa sarà? Posso supporre... Qual è l'ipotesi prevalente anche su questa? Io suppongo, è chiaro che una dichiarazione di morte presunta a norma dei codici vigenti in Italia si dichiara dopo tanti anni. Da cronista di nera di questo territorio immagino che San Filippo sia... non ci sia più, insomma. Mi riesce difficile credere che un piccolo pregiudicato come Antonino San Filippo sia potuto sparire così nel nulla, magari dopo aver consumato l'omicidio di Longobucco, perché potrebbe essere una delle ipotesi, no? Che lo abbia ammazzato lui per poi darsi alla fuga. Mi riesce molto difficile perché la caratura del personaggio... Ma il tre due rapporti c'era? Era uno di fiducia, era conflittuale? Era un rapporto di amicizia, certamente, quindi era uno dei ragazzi vicini al boss, ma la caratura del personaggio San Filippo è ben poca cosa, per cui ingigantire oltremodo un personaggio che non poteva andare, a mio modestissimo avviso, molto lontano, piccolo pregiudicato con precedenti per droga, qualche furtarello, insomma, roba di poco conto che mi lascia supporre che non potesse avere né una disponibilità economica, tale da affrontare una latitanza, no? Uso una parola grossa, né appoggi, diciamo, esterni, quindi complicità esterne che lo abbiano potuto in un qualche modo aiutare. Molto più verosimile, invece, che sia stato utilizzato in forza dell'amicizia e del rapporto che aveva con il boss Longobucco, che sia stato utilizzato come esca e poi eliminato come testimone scomodo di un omicidio di indrangheta. Innamorato, sempre di più, in fondo l'anima, per sempre tu. La tua musica è bellissima. Noi pensavamo di essere speciali, Matteo. Un'avventura. Non sai come far valere i tuoi diritti? Hai bisogno di aiuto. Conoscere per agire. Centro Servizi per la tutela dei tuoi diritti. Sportello legale. Infortunistica stradale. Danni per malsanità. Infortunistica sul lavoro. Diritti del consumatore. Servizi previdenziali. Pensione invalidità. Disoccupazione. Maternità. Malattia. Infortunistica sul lavoro. Consulenza gratuita. Ci troviamo presso la sede del sindacato Will. Ogni martedì, dalle 16.30 alle 18.30. Via De Franchis 17, Corigliano Rossano, località Rossano. Telefono 0983 20 11 37 e 333 9104 129. Centro Servizi tutela e diritti chiocciolagmail.com Non rimanere da solo. Rivolgiti a noi. Centro Servizi per la tutela dei tuoi diritti.